Il Milan è vicino alla chiusura, la trattativa tra il Milan e Marco Sportiello prosegue e si avvia rapidamente, verso la conclusione, secondo quanto dichiarato. Mai mai Milanist Nation Milan can close contract. Se non vuoi perderti nessuna notizia del Milan di prima mano iscriviti subito a questo canale, perché siamo sempre attenti alle ultime novità del pesce e qui rimani sempre in cima a tutto dal Milan. Il Quotidiano fa ecco alle notizie di altre fonti, affermando che il portiere dell'Atalanta, il cui contratto con il club bergamasco scade il prossimo giugno, è stato scelto da Paolo Maldini e Ricky Massara come nuovo sostituto di Mike Maimian. La scelta è stata fatta sapendo che anche il contratto di Ciprian Tatarusano scade il prossimo giugno e non sarà rinnovato, quindi se ne andrà lasciando un vuoto in termini di portiere di riserva. Lasciate già il vostro like su questo video, perché è molto importante per voi non perdere le ultime notizie dal Milan, che pubblichiamo qui intorno, grazie. Mancano ancora alcuni dettagli prima di raggiungere un accordo completo con Sportiello, ma tutto è pronto per quello che sarà il primo ingaggio della stagione 2023-24. Il trentenne ha già lavorato sotto la guida di Stefano Pioli alla Fiorentina e ha ricevuto l'approvazione dello staff, dei portieri del Milan, che ha espresso un parere positivo sulla scelta. Tifosi del Milan, secondo voi siete o non siete fiduciosi per il 2023? Qual è la sua opinione? Scrivetelo nei commenti, perché è molto importante per il nostro Black Rubber Team. Restate sintonizzati, perché in qualsiasi momento vi aggiornerò con le ultime notizie sul Milan.